La scelta di operare una riduzione indistinta del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale a cui contribuisce lo Stato potrebbe produrre effetti indesiderati. L'onere della riduzione verrebbe distribuita omogeneamente in base a criteri di riparto del fabbisogno, facendo perdere rilievo alle modalità di determinazione degli eccessi di spese e penalizzando le realtà più virtuose. In secondo luogo, non può essere trascurato che le correzioni apportate alla previsione della spesa sanitaria, in base ai risultati più recenti e alle manovre introdotte a portire dal Decreto Legge 98-2011, hanno condotto ad una rilevante correzione dell'andamento della spesa, caricando il quadro programmatico di obiettivi di contenimento e di rilievo. La spesa del 2013 è stata prevista in riduzione di poco meno di 7,3 miliardi rispetto a quanto previsto nella relazione presentata dal Governo il 4 dicembre 2011.